Ladies and gentlemen, benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite Ieri abbiamo acquistato in chiusura di episodio una skin che qualcuno di voi ha definito pay to lose Perché? Perché è un pollo gigante Eccolo qua, non sto scherzando E oggi proveremo a vincere utilizzandolo Siamo praticamente arrivati a 10.000 supporti a un creatore Grazie veramente di cuore, ricordatevi di inserirlo all'interno del negozio Si toglie in automatico ogni 14 giorni Taggatemi su Instagram perché rispondo a tutti quanti, provare per credere Un bel pollicione in su e iscrivetevi che siamo sempre più vicini al milione Io vi auguro una buona visione Allora Mi spezza questa cosa Come facciamo a vincere? Potrei essere l'unica persona sul pianeta Terra ad aver comprato questa skin E c'è un motivo suppongo Cioè ragazzi, ma di che caspita stiamo parlando? Ma poi Scusami, non era un po' più giallo prima? Adesso sembra tipo ocra Un colore molto spento Vabbè La nota positiva è che possiamo atterrare dove ci pare e piace Ora, tutto qua in inglese Aspettate che lo modifico al volo Where do we go? Potremmo andare alle distese del duello per il meme Che ne dite? Un pollo alle distese del duello Eccomi qua Pollo zombie in arrivo Col deltaplano con le banane E perché pay to lose? Perché teoricamente l'hitbox del pollo è gigante Ed essendo gigante Mi sparano ovunque, mi colpescono Oh mio Dio Non mi trovo per niente Beh, mi stanno già sparando tantissimo Ottimo Come posso nascondermi dietro al muretto? Non ci sto Per dovere di cronaca Cioè guardate A parte che mi colpisce sparando a caso Con quella stupidissima mitraglietta Io sono enorme Sono enorme No, ho sbagliato Ho sbagliato Avete mai visto le distese del duello Senza le distese del duello? Eccole qua I replay completamente buggati Queste cose le vedete solo ed esclusivamente sul mio canale Facciamo che allora vado prima nel mio avamposto Qua dietro E poi successivamente raggiungiamo le distese del duello Poi cambiamo, eh Si va da un'altra parte Troppo grossa e ingombrante, raga Ma scherziamo Cioè Che roba è Molto bene Sopra di me? Dove sei amico? Si No, non ti fare tutti i miei barili Sacco di pulci Guardalo C'è il cecchino No, raga Sono talmente gigante Che non vedo le persone Con calma Fai un po' di esercizio Che magari Guadagniamo un po' di spazio Ma questo è bellissimo Ma io lo voglio Me lo compro Me lo compro Era cari Non so se ce l'ho fatta Oh, raga Adesso siamo gialli Cioè Prima non lo eravamo per niente Vediamo cosa succede Agli scalini spocchiosi Eeeh Mezza lobby, raga 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 persone oltre a me Are you kidding me? Oh, si passa alla finestra Incredibile No, dai Non ci posso credere Abbiamo trovato il lanciarazzi Muerto Si è stato ucciso da un pollo Cioè Renditi conto, amico Raga, io ci provo Ma che me costa Oh, ma dove l'ho tirato? Vai, vai un altro Vai un altro Eccolo Oh mio dio L'ho ucciso L'ho ucciso L'ho ucciso Con razzo, raga Non ci posso credere Peter sta morendo Aia Ho fatto malissimo Aiuto Ehi Porca miseria Mi ha pure fatto La finestrina Per sparargli in faccia C'è un po' di gente E mi sembra di aver visto Un lama O sbaglio Quell'ama Potrebbe essere la svolta Potrebbe cambiare la partita Eh Viva bello Lo sto picconando Andiamo Pensavo Pensavo di essersi salvato Muori va Dove? Dove? No Vabbè No Non ci posso Non ci posso credere Raga Non ci posso C'è un altro No Devo resistere Raga Non vedo nulla Con questo pollo Ve lo giuro Perché è così Assetato di No È incredibile È incredibile Comunque C'è un'altra persona Lì E non ha fatto niente Sta iniziando A intervenire Adesso È complicatissimo Giocare con questa skin Gran ghiacciaio sia Lo mettiamo nel congelatore Sto polaso Peccato Perché avevo ancora un sacco di materiali Potevamo forse riuscire a salvarci Solo che Cioè Ha joinato il box Con l'exploit Della scala dietro il corpo Che io vuoi fare E che succede Oh Oh Calmo Calmi Se hai le palle mi segui Ho visto che non le hai Vai Aiuto Non ci posso credere Eh vabbè ragazzi Oddio La gente veramente Che suda Da pori Che non ha Dove vuoi andare Mio Ho capito Dai Un ninja Un ninja No Caspita raga C'è un lama Alle distese Del duello Sapete già Che cosa significa Se per caso Cadesse il mondo Prendo il lama E non ce n'è Per nessuno Vagabondo Il materiale Fa per me Via Dai dove vai Dove vai Mi è qua Mi è qua bello Mi è qua Cosa Scusami Una domanda Ma secondo voi Ci entra nel tombino Sto coso Perché Non ne sono così sicuro Quello là sotto Sta già prendendo Delle armi Potrebbe essere Preoccupante Tutto ciò Non spararmi Non spararmi Mi ha tirato le granate Vigliacco Passi Cosa Sì ho capito Ragazzi Quanto danno Fanno Cioè mi colpiscono Anche quando Non vogliono Spararmi Ma Io non so Se sia una buona Idea A questo punto Il tipo Giallo Sotto Il tipo Sopra Prende un'arma Veloce Tutti e due Che sparano Su di me No ragazzi Non è sostenibile Questa cosa Cioè perché io sono Il pollo giallo E ovvio che La prima cosa Pensavo non avesse Un'arma Questo tizio Ehi Ciao Poverino Bello Sto 110 Ok Ce n'aveva anche Lui cecchino Non ci credo E ora Vabbè È tutto suo È tutto suo Raga Per favore No dai Va bene Va bene Dai Sei più bravo O te Via C'è proprio da fare Bravo Vai a comprare Dal bot Pirla Pirla Non ti arrivo Ah no Capito quante ru... No Era troppo forte Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Aiuto No raga Litbox Fabio Chitarrini No 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 Non è possibile Ragazzi Ora facciamo come quelli di prima hanno fatto a noi eh Ho trovato anche la mitraglietta viola Ah questo No Ovvio Non puoi riflassare al primo col... No ragazzi Cioè Veramente E poi mi venite a scrivere Te c'hai 0 di ping Raga Ha riflassato al primo colpo Stavo il dando C'è neanche due tentativi Al primo colpo Dunque È bello complicato Perché Ho provato a riscaldarmi anche un po' in 1v1 Ed è difficile fare i 90's raga Ma questo Non ci farà arrendere Qualcuno Ha ordinato delle chicken McNuggets Dal cielo Eccole qui C'è un tizio Davvero Questo viene qua È impazzito Notare via Morto No dai Non ci si può le credere È stranissimo muoversi Non so come spiegarvelo Cioè Non potete immaginare Quanto mi sto pentendo Sia di aver speso soldi Per questa skin Sia di starci giocando Ne hanno finiti Ne ho tirati ora Sai che si? Atena Or Apollo Eccomi qua Apollo So io Andiamo Monta Monta qui Raga È talmente grande la skin Che il personaggio dietro Viene inglobato Incredibile Incredibile Eccomi Morto Dove vai? Guarda questo No vabbè ragazzi Cioè Ehi 110 Questo prima dell'aggiornamento Sarebbe stato un headshot pieno E Se No vabbè Ma chi? No ragazzi Cioè io non vedo neanche chi mi sta colpendo No raga Ve lo giuro È difficile Sparare KFC Che facciamo con sta skin? Non lo so Non ho idea E poi vengono in tre Qui Io questa roba Non la Cioè non la supporto Non esiste No dai ragazzi Ogni colpo Mi prende Ogni colpo Che sparano No è È alluscinante Qui è salito No dai C'ho un pompa Ce la facciamo? La mia segua ci ha preso la kill Non ci posso credere C'è un altro Bello Riesco a prendere il loot Almeno di quello Eh vabbè Tutti col cecchino Ma morca di quella Ma quanto godo Medaglione della Tana tracotante Appena acquisì No way No ci può Non può essere ancora vivo Mi dispiace ragazzi Non può essere vivo Sì Avevi rubato il medaglione Giusto È giusto Ah cavolo Stiamo andando in conto A un altro medaglione Ma porca Di quella trottola Schifosa Mi devi Lasciare in pace Sta continuando A inseguirmi Guardalo Guardalo No no dai Non può essere vera Sta cosa Non può essere vera Dov'è? 1v1 no 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 Il demone Il demone Con i medaglioni No dai Mi ha preso Cosa? No Questa è una cagata infinita Raga Raga È riuscito a giunare Nel mio box È riuscito a giunarmi Il box È una roba Disgustosa Stavo Dando tutto 140 Let's go Let's go Goto 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 Sì E andiamo E andiamo Ragazzi voglio Immediatamente un mi piace Immediatamente Sudato come pochi Questo Non so come abbia fatto A entrarmi dentro E non è riuscito A ucciderci Sì Sì È quello che mi ha inseguito Per tutta la mappa Quanto posso godere Abbiamo vinto col pollo Non mi sembra vero Ve lo giuro Cari amici Godo Come un polaso In questo momento Siamo riusciti A portarcela a casa Con questa skin Non vedevo l'ora Rilivarla Ve lo giuro Se volete supportarmi Sapete cosa fare Codice creatore step Taggatemi su Instagram Che rispondo a tutti quanti Abbiamo praticamente raggiunto I 10.000 Ve l'avevo già detto Nella intro Ma mi sa che stamattina Ci siamo arrivati Grazie Veramente Di cuore Arriviamo anche al milione Un pollicione in su Commentate Noi ci vediamo Per il prossimo video Questa è per tutto Adesso vado a farmi Un pranzetto Perché dopo queste Due ore Non ne posso più Grazie a tutti I 5 Ciao Ciao Grazie.